Consideriamo che è un processo che è iniziato 15 anni fa, con una volontà popolare espressa e tradutta nel piano regolatore della città. Oggi stiamo riprendendo in mano le redini di una situazione che di fatto è stata congelata per anni di inadempienza, di omissioni su questo tema. Di nuovo la spinta popolare ci porta a ricordarci scelte assunte con il piano regolatore. Quindi è importante anche un'occasione come quella di oggi perché la città tutta ricordi che anche la spiaggia è un bene comune e su questo dobbiamo lavorare anche noi come amministrazione. Due giorni di dibattito, mostre d'attività per promuovere la riqualificazione pubblica dell'area di Bagnoli. Si parte dall'aulamagna della Facoltà di Ingegneria dove il convegno di oggi, patrocinato dal Comune di Napoli, vuole fare il punto sulle possibilità di recupero del litorale di Bagnoli all'uso pubblico e balneare, andando in senso contrario rispetto a quello che è stato definito lo scetticismo prevalente sull'intera annosa questione legata all'area. Noi abbiamo raccolto le firme per questa delibera che è stata approvata, una delibera iniziativa popolare, è stata approvata dal Comune il 25 settembre. Quindi c'è un impegno politico dell'amministrazione molto importante perché tutta la spiaggia di Bagnoli, tutto il litorale di Bagnoli sia destinato ad uso pubblico, libero, balneare. E poi la questione della bonifica che è quella che richiede una forte pressione sul governo centrale perché paradossalmente lo stesso governo centrale che in una settimana ha reperito 20 milioni di euro per ricostruire città della scienza, è lo stesso governo che ha tagliato 50 milioni di euro per la bonifica del litorale di Bagnoli. E' stato presentato anche l'esempio di Barcellona, un caso chiaro di come sia stato possibile procedere ad un piano integrato di gestione del litorale e si è posto l'accento sulle competenze dello Stato, da cui bisogna pretendere l'azione di bonifica in quanto sito di interesse nazionale. Bagnoli e la città di Napoli hanno diritto a una bonifica, alla spiaggia pubblica, agli spazi restituiti ai cittadini ed è per questo che io martedì chiederò al governo un impegno preciso perché è un sito di interesse nazionale come è stato fatto per altri luoghi del nostro paese ed è stato fatto anche per Bagnoli. Noi abbiamo le idee molto chiare che passano soprattutto, come abbiamo detto stamattina insieme agli amici di Barcellona, per la spiaggia pubblica e il mare aperto a tutti.